Un grazie a tutte le lavoratrici, a tutti i lavoratori che in maniera incredibile sono presenti i picchetti. Sono presenti non come vuole la tradizione, ma soltanto la forza operaia. Continua il presidio ai cancelli della Varsila da parte dei lavoratori anche in questo caldissimo mese d'agosto. Non solo gli operai, ma tutti i comparti della grande fabbrica di Bagnoli sostengono l'iniziativa che ha anche lo scopo di evitare possibili colpi di mano ferragostani da parte della proprietà. Sono là in primis ovviamente per salvare il proprio posto di lavoro, ma sono altrettanto consapevoli che chiusa Varsila e chiuso questo comparto industriale, Trieste non ha più industria. Si avvicina a Ferragosto e i rischi aumentano. Non vorremmo mai che l'azienda facesse delle forzature. Noi sappiamo che la nostra forza in questo momento è tenere fermo il presidio per cercare di mantenere tutti gli asset all'interno dell'azienda. E dopo la manifestazione di giovedì scorso i sindacati stanno lavorando a una verifica puntuale sulla correttezza del comportamento aziendale in tema di comunicazioni. È chiaro che bisogna verificare che anche loro abbiano rispettato fino in fondo le regole, quindi stiamo facendo una verifica molto profonda, molto attenta, con prove testimoniali, con documenti che stiamo raccogliendo per verificare che effettivamente tutto sia a posto o come riteniamo noi no. Un percorso che si realizzerà presumibilmente il 3 settembre o comunque una data dei primi settembre per tenere alta l'attenzione della cittadinanza. Avremo bisogno di una risposta forte della cittadinanza.